Nel local, in Montjarang, in una scuola che non è profondo arrivato al topico. Non è arrivato a archivobunero.com, in bookings. però tutto il documentale che non si tratta, per esempio, è un website di UNESCO, che non si sorprete tutto il documentale, tutto il programma interessante che non si tratta da l'arrivo. Quindi non si vieni qui, non si tratta di consulta, non si tratta di un appunto, 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 sai di Fouicubo, di John Schermer, però non sta tra copi, cerca di John. E mi ti dice che ora non andremo a scelta, se non è che mai, per esempio, di scelta o di famiglia non è buon oriano. Fouicubo, tei, perché teori? Buon, mi teo che dove sei, è importante che quello che ti ha, non, ma te li capite in chione, per Fouicubo chieda, che è da Fui Cubo, ma sono cose di me, sono cose di Puneiro, di Puello Puneiro, e ho una signora, Emma Pratt, che è da Maneca, Fui Cubo, poco a poco italiani, ma informazione di Fui Cubo che conosci, ma una persona con una finale minopo, che era senza menzionare il suo apporto enorme, valioso a Fui Cubo, e si è da Nicky Peters, la Corsau. Dopo di me, mi chiede a Nicky conoscere il suo archivo di Fui Cubo, mio, di Puneiro. Conoscere i suoi, che è da Bucina, che ci hanno grabato una foto, che hanno alcuni 10.000 portrotti di Puneiro, che è negativo, ma è stata così. La Corsau è da Fui Cubo, sono due persone che hanno impiegato il suo apporto di Fui Cubo, che è da Nicky Peters e da Corsau, che è da Bucina, e quindi in la Bucina del 70, non è che era da Corsau, ma è stata attiva, che era di fatto solo, quello che aveva fatto con il potretto, con il documento, con l'audio, con la digitalizzazione, è incredibile lo che è che sta facendo per Fui Cubo. Non si vede a parlare, ma non si vede a parlare, ma non si vede a parlare, ma non si vede a parlare di FUICUBO. C'è qualcosa di interessante? C'è un programma per l'herenzia di Putin. C'è un programma per l'herenzia. C'è un programma per l'herenzia.